Salve a tutti, salve a tutti i bambini di Pimenten, aprite bene bene le orecchie perché non lo riperterò mai più Ragazzi, segnatevi questa data nel calendario o nel quaderno di scuola Vi dovete segnare la data di ottobre, perché a ottobre arriva a Pimenten Sì, avete capito bene, a ottobre Giamos arriva a Pimenten Sperando che questo cavolo di tempo sia smetta il più presto possibile perché a ottobre dovrò andare a trovare i miei amici bambini di Pimenten E vorrei salutare tutti coloro che mi conoscono e gli altri Quindi ricordatevi la data ragazzi, a ottobre Amos Zanda verrà a Pimenten Titolo di video, Amos Zanda arriva a Pimenten, a ottobre Quindi sperando che ci sia un bellissimo sole Ok ragazzi, così finalmente mantengo la promessa che vi ho fatto da lungo tempo Avete capito bene, Amos arriverà a ottobre a Pimenten Ci vediamo fra poco, non andate via, ciao